Una domanda che mi hai fatto in parte e mi dico che non le imparai altre cento volte. Una domanda sciocca. No, meglio così quella intelligenza. Per il resto la categoria è particolare, molto particolare. Ci sono delle dinamiche che a volte sono un po' difficili da gestire, da capire, in campo, fuori. Succedono tante cose diverse. È normale che, come hai detto te, prima se veniva fuori è meglio. Perché non è spuntata, non è banale, è molto varia. Il Venezia sta dimostrando che probabilmente per fare meglio di noi in questo campionato ci sono altre caratteristiche piuttosto che altre. È una serie di incastri molto più complicati rispetto ad altre categorie. Tra l'altro adesso...